Puro bianco di cime nevose, suave o netto di vivi di fior, rosseggianti su coste serpose, dolce festa di vari color. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Bonnie Swapo. Oggi, in teoria, il microfono dovrebbe andare. L'altro video vi chiedo scusa, vi chiedo scusa per l'audio, è stata colpa mia perché mi si è aggiornato il computer e il computer non mi aveva salvato, il programma è andato alle impostazioni di fabbrica. Chiedo scusa, quindi ritorniamo alle vecchie glorie con l'audio un attimino decente. Oggi ragazzi volevo parlarvi della Kira. La Kira è una boxettina con batteria 18-650 che arriva fino a 75 watt, addirittura 75 watt, progettata da Galattica Mod italiana e costruita da Ambition Mods. Ultimamente Ambition Mods, questa ditta cinese, questa azienda cinese, sta collaborando con parecchi moderi italiani per fare prodotti, tra virgolette, high-end, a prezzo modico, diciamo, per tutti quanti. Ora ragazzi ve la faccio vedere da vicino, poi ci troviamo il mio visino che fa anche rima e vi dico un po' quello che penso di questa boxettina. Questa ragazzi è la scatola della nostra Akira, della box di Galattica, come possiamo vedere qua, disegnata da Galattica Mods e made, ossia costruita da Ambition Mods. Possiamo vedere qua l'altro simbolino di Galattica, qua abbiamo CE e smaltimento con indirizzi di dove è stata prodotta e importata e distribuita da KingSRL con le varie indicazioni di via e il sito www.smokingkingshop. Qui abbiamo il logo di Ambition Mods, qui abbiamo un codice a barre, dietro possiamo vedere Ambition Mods, Shenzhen, Moditech & Co, eccetera. Abbiamo qua la lista dei vari social di Ambition Mods e qua altre specifiche, altre tecniche con sotto tutti i simbolini del caso. Ora l'apriamo, possiamo vedere all'interno un libretto con tutte le istruzioni, anche in italiano se ne erro, abbiamo tutte le istruzioni con anche le dimensioni della box che è alta 77, è larga 42 e profonda 25, oppure profonda 42 e larga 25, dipende da dove la guardate insomma. Sotto abbiamo i pulsanti più e meno, il vano porta batterie, con qua tutto scritto, qua praticamente c'è tutto scritto, voi non fate altro che leggerlo, insomma modalità di blocco 5 volte, eccetera. Abbiamo tutte le verifiche che fa la box, ossia non legge l'atom, eccetera, insomma tutte le protezioni del caso, eccetera. Qui abbiamo un pacchettino, con dentro sicuramente un cavo USB e micro USB normalissimo. Io avrei preferito un USB-C a dire la verità, pian piano le fanno tutti così, ma chi se ne frega. All'interno di questo sacchettino abbiamo la nostra box. Box che io ho comprato di colore nero, ce l'ho da un pochino. Qui abbiamo il simbolo di Galactica Mode, qui abbiamo un tubo che è isolato per evitare qualsiasi corto, eccetera. Tasti più e meno, porta micro USB e qua vanno porta batterie. Lo andiamo subito ad aprire. I filetti anche sono a posto. Vabbè che... Più verso l'alto. Chiudiamo. Io ragazzi non vi farò vedere il controllo della temperatura, perché proprio uno non lo uso, due non sono capace di usarlo e non mi va. Cinque clic per l'accenderla. Abbiamo Ambition Mode, vediamo subito. Qua adesso mi dice Check Automizer perché non c'è nessun Atomizer. Qui abbiamo gli Ohm, i Volt e gli Ampere di scarica e qui i Watt che impostate. Io prima la usavo 16 Watt, per cui così insomma. Qua abbiamo la scritta Kier, alza da 25. Io penso che un 25 lo potete montare. Io non vado sopra i 24, quindi così lo uso. Il pin è flottante, quindi vedete che si autoregola. Questa è una cosa che io adoro. Adesso vado a prendere il Feb. Io la uso con vari Atom. Ultimamente la sto usando con il Feb. E con il Feb, francamente, a me piace. Insomma, è molto carina. È molto carina, è piccola. Il circuito va da dio, perché va da dio. E a me piace molto il tasto anche. È bello reattivo, è bello... Non è tanto giocattoloso. Però, insomma... E parte subito. Io schiaccio, adesso vi faccio anche sentire vicino al microfono. E così, insomma. Ragazzi, non c'è altro da dire su questa box, su questa chiera. L'avete vista? Vi faccio vedere l'ultima panoramica. Non c'ha un sgrinfetto. A parte qualcosina di normalissima usura. Però la box è fatta veramente bene. È un plasticone, ma ci sta. È fatta in derlin, se non sbaglio. Qua il corpo. A me sembra plastica. Però, insomma. Per quello che costa va anche bene, insomma. Ora, ragazzi, ci vediamo al mio super visino. E vi dico un po' quello che penso e come mi sono trovato con questa chiera. Eccoci, ragazzi. Bentornati al mio visino. Allora, l'abbiamo vista da vicino. La box è fatta in derlin. Io l'ho presa nera, quindi derlin nero. E acciaio. Il tubo è isolato. Il tubo è anticorto. Tutte quelle robe lì. Ha tutte le precauzioni del caso. Quindi è una box anche per chiunque. È una box che non pesa eccessivamente. Cioè, senza atom. Non pesa tantissimo. Insomma, con batteria dentro, sia chiaro. Normale. Abbiamo visto che arriva fino a 75 watt. Abbiamo visto le dimensioni che sono molto contenute. E abbiamo visto anche col fevone ci sta bene. Almeno a me piace. Vado a farmi una sbappatina. La box, appena tu schiacci, forse c'ha un millesimo di ritardo. Ma chi se ne frega. È molto reattiva. La cosa che mi ha stupito, almeno a me, con le mie batterie. Poi avevo una batteria nuova, quasi nuova, che l'ho usata qui. La scarica delle batterie. La gestione del circuito. La gestione, appunto, delle batterie. È molto, molto buona. Ho trovato circuiti molto peggio. Ad esempio, il DNA 75, uno vecchio, che era pessimo. Qua è uguale a un DNA. Magari è anche una DNA. Non so i cinesi come lavorano. Ma non lo so. Insomma, soltanto chi l'ha fatto lo sa. Però funziona come un DNA. Esteticamente è uguale. Quindi, cioè... È un DNA, insomma. Funziona uguale, identico. Non potete taccare le scribe. Ma chi se ne frega. Secondo me è una boxettina da tutti i giorni. È anche carina. È comoda anche da tenere in mano. Almeno io sono comodo. Io veramente... C'ho le mani da fattina. C'ho le mani da fattina, però non esce dal palmo della mano. Insomma, quasi. Perché c'ho le mani piccole io. Però non esce, quindi... Io mi trovo da dio, avendo le mani piccole, mi trovo bene comunque con le box piccoline. Quelle troppo grandi, faccio fatica veramente ogni tanto ad usarle. Quelle ce ne ho di grandi, mi trovo non bene, insomma. Questa invece mi trovo bene. È comoda. La gestione delle batterie è ottima, secondo me. Esteticamente io gli do un 9, senza paura. A me piace più della era e più della... Quella side by side. Vabbè, che a me le side by side proprio non piacciono. Quindi la loro side by side, quella di Ambition Mode, adesso non mi ricordo, no. La Easy Force a me proprio non era piaciuta. Ce l'ho, però non mi piacciono a me. Mi piacciono le box piccole fatte così comunque. E niente ragazzi, io ve la consiglio anche per chi vuole una box da tutti i giorni, da portarsi in giro, da tenersi a casa, che stia comoda nelle tasche, nelle mani, eccetera, eccetera. Diciamo che è un buon compromesso, insomma. L'unica cosa, io vi butto lì una domanda, cioè i materiali. Ok, la box costa... Al pubblico l'ho vista 60 euro, infatti l'ho pagata 59 o qualcosa. Non lo so, io magari punterei qualcosina sui materiali ancora di più. Però ci possiamo accontentare, dai. Box comoda con un ottimo circuito, perché a occhi chiusi nessuno direbbe che non è un DNA, che poi lo è alla fine, credo. E niente ragazzi, io credo di avervi detto tutto. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, Bonni Svapo, iscrivetevi al canale, vi lascio tutto quanto qui sotto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!